Ciao a tutti, oggi vi presentiamo Bimba, una bellissima cucciolona di 11 mesi che abbiamo allevato dopo il suo abbandono. Bimba è stata lasciata a fine maggio o prima? Fine maggio, fine maggio aveva 5 mesi ed era minuscola e soprattutto aveva un problema molto serio, una malformazione non congenita alle zampe dovuta purtroppo alla malnutrizione e alla parassitosi. Lei aveva le zampe anteriori completamente storte, curve, facevano impressione. A quel punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo seguito i consigli del veterinario dandole integratori e cibo buono e con il tempo e con la crescita le sue zampe si sono raddrizzate quasi perfettamente. Questi sono i piedi, le zampe anteriori della dolcissima Bimba che per il resto sta benissimo, rimane solo una questione estetica non funzionale, lei corre, salta, gioca e continua comunque a mangiare cibo di qualità e a prendere integratori. Rifaremo una lastra a Bimba, adesso vediamo ora che è cresciuta, che appunto ha finito diciamo la crescita 11 mesi, ha raggiunto la sua taglia definitiva. Vediamo un po' se si può ancora fare qualcosa, ma in ogni caso come potete vedere sta proprio bene. Vedete soltanto qui, guardate, guardate solo qui questa parte che comunque è rimasta un pochettino curva verso fuori, ma prima erano completamente tonde, no? La faceva un arco tondo ad entrambe le zampe, impressionante, quindi era come vedete solo una questione di nutrizione perché nel momento in cui abbiamo provveduto lei si è ripresa. Ora questa meraviglia non può rimanere in campagna dove ce l'abbiamo in stallo perché non ha un recinto, non ha una protezione, è sempre sola, l'unica certezza è ricevere carezze sicuramente quando si va da lei a portarle da mangiare e la pappa buona, ma poi poi rimane sola con gli altri cani, con i pericoli, c'è sempre la strada e poi dispiace perché quando un cane proprio buono buono come lei che ama il contatto umano lo cerca, è peccato farla vivere così. Ci sono cani un po' selvatici che quasi quasi, ecco, vorrebbero proprio, ce lo chiedono di essere un po' lasciati in pace, tranne per il fatto che dipendono da noi per il cibo, quello sì, ma non bimba, non bimba perché bimba non ha alcuna paura, si fida completamente e ha bisogno, ha tanto bisogno del contatto umano. L'abbiamo sterilizzata qualche giorno fa, sta benissimo, ora è sotto antibiotico, ha quasi finito, ha ripreso a mangiare, è ripreso a fare i bisogni, sta proprio bene, ma guardate che faccia, guardate quanto è bella, è proprio buona, qui è stata graffiata, in campagna succede, ma poi passa, quella crosticina cade e il suo faccino diventa di nuovo bello, perfetto, con il pelo bianco bianco, davvero bella. Fate un pensiero per lei, adottatela, le sue zampe non sono un grosso problema, assolutamente, adottatela. Ciao bimba, buona fortuna! Grazie a tutti!